Il modo Lidio è in tonalità di Si, tra il Si e il Do diesis, un tono tra il Do diesis e il Re diesis, un tono tra il Re diesis e il Fa, un tono tra il Fa e il Fa diesis, un semitono, tra il Fa diesis e il Sol diesis, un tono tra il Sol diesis e il La diesis, un tono tra il La diesis e il Si, un semitono, quelle variazioni sono il Do diesis, il Re diesis, il Fa diesis, il Sol diesis e il La diesis.